OmniDry è la nostra tecnologia impermeabile ultratraspirante che garantisce l'asciutto dentro e fuori. La tecnologia OmniDry impedisce all'acqua e agli elementi di penetrare nel capo ed è traspirante grazie ad una membrana più leggera del 75% rispetto ad altre membrane impermeabili. Le molecole d'acqua non riescono a penetrare la membrana microporosa OmniDry, al contrario le molecole di vapore generato dal sudore e quelle di aria calda generate nell'attività aerobica passano all'esterno del tessuto con facilità. Come si può vedere i micropori che mantengono condizioni di asciutto permettono anche il deflusso dell'aria riducendo l'umidità e garantendo grande respirabilità e comfort mantenendo proprietà antivento e fornendo riparo dagli elementi nelle condizioni peggiori. OmniDry, asciutto dentro e fuori. Grazie Tagse parler 걸로! La 먹ita dietro ha tutta l'aria riducendo l'alaeda